Ciao ragazzi, ciao 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 ciao. Sabato 4 novembre, segnate la data perché ci sarà la semifinale dello Svitalent, il talent dove cantano, suonano, disegnano, talenti vari. Allora, semifinale, quindi sabato 4 novembre alle ore 21 della sera. Quali sono i concorrenti rimasti in gara? Allora, nella squadra di Lucchino Han, della compagnia dei Nambi, che vi consiglio di seguire il suo canale, che è strabello, ci saranno nella sua squadra Zenix, Angelo, Pampilonia e Carlo Neux. Nella mia squadra, la squadra Svideo, c'è Stefano dei San Canale Bell, Giuseppe, Zio Fede e UCN Vito. Allora, nella puntata della semifinale saranno eliminati 4 concorrenti, quindi ne resteranno solo 4 che passeranno alla finale. Dai, continuate a seguire il talent. Ciao 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 ciao.